L'ultima edizione è stata quella del 2019. Dopo due anni di pandemia, il santuario di San Gabriele dell'Addolorata di Isola del Gran Sasso si torna a festeggiare i 100 giorni agli esami di maturità. Lunedì 4 aprile, migliaia di studenti delle ultime classi delle scuole superiori, e se ne prevedono circa 6.000, provenienti da tutto l'Abruzzo e anche da fuori regione, si ritroveranno nella grande chiesa dedicata a San Gabriele e il Santo dei Giovani per festeggiare i 100 giorni che li separano dal loro diploma. La manifestazione è giunta alla sua 42esima edizione. Quelle del 2020 e del 2021 sono state celebrate solo simbolicamente a causa del Covid. Quest'anno finalmente, finito lo stato di emergenza, migliaia di studenti potranno tornare ad affollare il santuario per momenti di preghiera e festa in compagnia del loro protettore. Si tratta di una giornata unica nel panorama nazionale che consiste in una specie di ritiro spirituale, con confessioni, messe e socialità. Diversi religiosi passionisti, tra cui molti confessori, saranno a disposizione dei giovani per l'intero giorno. Il programma prevede la celebrazione di sante messe ad ogni ora, dalle 9 alle ore 17. Dopo ogni celebrazione seguirà il tradizionale e atteso rito della benedizione delle penne. La messa delle ore 11 sarà celebrata da Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo Atri, il quale donerà a tutti i presenti la sua lettera mensile scritta ai giovani della diocesi teramana. E intanto la questura di Teramo ha previsto un servizio d'ordine molto capillare che prevede la presenza sul territorio a partire dall'A24 e dall'A14 fino a Colledara di 50 pattuglie tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale per effettuare controlli serrati sul possesso di alcol e droga.